Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere qua in questo caldo pomeriggio di giugno. Questo è il nostro primo workshop su OpenStack qua in sede da noi. In qualche modo ci agganciamo all'opera di evangelizzazione che stanno facendo i principali hardware e software vendor che partecipano al progetto. Per alcuni il tema è del tutto nuovo, perché magari non l'hanno ancora affrontato, qualcun altro invece partecipando agli altri eventi l'avrà sentito nominare e raccontare già i miei volte. Questo pomeriggio il workshop sarà tenuto da me e da Pasquale Angiuli. Io sono Michelangelo Berti, attualmente coordino le attività di marketing comunicativo e operativo dell'azienda, ma ho un background tecnico, sono stato ICT Solution Architect e Pre-Sales Engineer qua in Fartec. Pasquale invece è Pre-Sales Engineer e si occuperà di tutta la parte demo. Vediamo rapidamente qual è l'agenda di oggi. Andremo a raccontarvi qual è la tecnologia e quali sono le componenti alla base. Dopodiché vi racconterò quali sono le principali differenze con la virtualizzazione. Questo per evitare confusioni di qualunque tipo, sia nell'approccio con le applicazioni che con l'approccio anche dal punto di vista infrastrutturale. Dopodiché Pasquale vi farà una demo su Horizon, l'interfaccia web di OpenStack, e vi mostrerà anche come fare scripting attraverso la command line interface. Concluderò con l'ultimo quarto d'ora raccontandovi quali sono le differenze tra le principali distribuzioni che Partec supporta. Partiamo subito con la panoramica. Cos'è OpenStack? Intanto è un software open source nato per la realizzazione di public e private infrastructure as a service. Quindi è orientato assolutamente all'infrastruttura. Ciò significa che poi comunque on top potete metterci altre tecnologie tipo OpenShift per andare a creare platform as a service e così via. È uno strumento abilitante, non è il punto di arrivo, è il punto di inizio. La cosa più importante da dire è cosa non è. Perché è una di quelle cose che genera più confusione nelle persone, o per lo meno nelle persone con le quali ho parlato fino adesso. Usa la virtualizzazione, ma non è l'ennesima piattaforma di virtualizzazione. È una cosa diversa. Pur avendo una serie di strumenti di gestione del cloud, non è un cloud management platform. Per capirci, non è il cloud forms della situazione. E poi non è una piattaforma general purpose. Praticamente è studiata per workload di tipo cloud. Quindi tutta una serie di applicazioni elastiche che scalano on demand. E non applicazioni monolitiche. Quindi bisogna stare attenti che è utilissimo in tante situazioni, ma non è la panacea di tutti i mari. Questo è importante a sapere anche per bilanciare le aspettative. Quali sono le origini? È un progetto abbastanza giovane rispetto a tanti altri. È nato circa cinque anni fa, con degli intenti molto diversi. Praticamente la NASA, col proprio progetto Nebula, e Rackspace, dalla altra parte, con il suo progetto di file hosting su cloud, hanno realizzato le prime due componenti core. La prima, la nuova, che serviva per mettere a fattore comune la capacità computazionale di tutte le macchine che aveva la NASA, che usava la NASA per erogare i servizi web. E invece lato Rackspace serviva per creare un object storage che consentisse di ampliare esponenzialmente la capacità di fuoco del proprio hosting in ottica anti-Amazon, per capirci. Lo stato dell'arte è questo. Ad oggi OpenStack, in soli cinque anni, è diventato un mostro a tre teste che praticamente ha 20 milioni di rivi di codice. Ci sono quasi 25.000 sviluppatori in tutto il mondo coinvolti. E ci sono circa 500 aziende che, in varie forme, economicamente, tecnicamente, con opera di evangelizzazione o con l'adozione stessa, supportano il progetto. Questo qua è considerato il progetto più grande dopo Linux, il progetto per insulso più grande dopo Linux stesso. Quindi questo fa capire un po', da una parte, le ambizioni anche che ha, dall'altra, quali possono essere anche le difficoltà da affrontare per metterlo in campo, perché è una bestia grossa per davvero. Chi è che supporta l'OpenStack Foundation? Abbiamo otto membri residenti, che sono i Platinum Members, sono le aziende che fanno parte del CDA, per capirci. E sono quelle che supportano maggiormente in termini economici e in termini fattivi. Ad esempio abbiamo Red Hat, che è l'azienda che maggiormente sta sviluppando le componenti, quindi ha proprio gli sviluppatori messi sopra a sviluppare. Abbiamo poi i God Members, sono 24 aziende residenti, anche queste qua, che cambiano di anno in anno in base al tipo di supporto che danno. Anche loro contribuiscono sotto varie forme, economicamente, sotto forma di comunicazione e di evangelizzazione e dal punto di vista tecnico. Poi abbiamo i corporate sponsor, che sono moltissimi, questi sono solo alcuni, ne ho riportati giusto per darvi un'idea. Più un'altra serie di sponsor con livello inferiore, che partecipano al progetto. Chi sono tipicamente? Sono software e hardware vendor, che vogliono, da una parte, contribuire alla crescita del progetto, dall'altra allattano le proprie soluzioni legacy, se così vogliamo chiamarle, per integrarsi alla piattaforma. Quindi troveremo il prodotto di storage, che creano l'interfaccia di astrazione per agganciare lo storage di back-end a OpenStack, e troveremo il Cisco, che produce i Cisco Nexus per agganciarsi a Neutron per gestire tutto il networking. Quindi ognuno ha vari livelli e ha interessi diversi. La storia di OpenStack, come vi dicevo, è lunga 5 anni. Come vedete, la release inizialmente era ogni 3 mesi, adesso siamo passati finalmente a un ciclo di release di semestrale. Dico finalmente perché 3 mesi era veramente macchinoso stargli appresso e tuttora non è cosa banale. Negli ultimi 2 anni, guardate qua, queste sono tutte le componenti core, che poi andremo a vedere. Negli ultimi 2 anni sono state sviluppate le componenti che tolta l'infrastruttura core, danno il maggior valore aggiunto. Quindi gli strumenti per la misurazione, per l'automazione, per l'orchestration, per il database and service e così via. Qua abbiamo addirittura, guardate l'ultima release, cioè è cresciuta in maniera incredibile la lista, perché i software vendor, gli hardware vendor, ci stanno mettendo veramente con tutta la passione possibile per svilupparlo. La prossima release uscirà a ottobre. Come vedete, ogni release è in ordine alfabetico, lo vedete, siamo alla chilo adesso, la prossima è Liberty, uscirà a ottobre. Sappiamo già cosa ci sarà in canna nelle release notes, quindi stiamo solo in attesa. Vediamo un po' come l'architettura è di alto livello. Questo per riuscire a introdurre le singole componenti. Come sapete, probabilmente, OpenStack è un umbrella project, quindi di fatto non è un progetto lui, ma è un macro insieme di progetti. Quindi abbiamo sotto una buona dozzina di progetti, ognuno col suo team leader, col suo gruppo di sviluppatori e con le aziende che li sviluppano. Quindi anche parlare di OpenStack come progetto OpenSource non è del tutto corretto perché è una roba molto più grossa. L'obiettivo che si pone sulla carta è banalissimo, che è un po' quello che è ereditato dalla NASA e da Rackspace. Amministrare un'enorme, ma enorme per davvero, quantità di risorse computazionali, di rete, di storage, e renderle facilmente amministrabili. Facilmente amministrabili come? Attraverso una web interface, quindi che chiunque può utilizzare, attraverso delle API raceful, quindi delle banalissime chiamate HTTP, che tutti quanti possano interfacciare delle applicazioni, attraverso riga di comando, alla vecchia maniera, che tanto piace ai sistemisti, no? Questa è un po' l'architettura di alto livello. Come vedete, è concettualmente molto banale, perché abbiamo il core, che sono Compute, Networking e Storage, che non sto a spiegarvi cosa fanno, la parola stessa lo dice, a questi sono agganciati una serie di servizi condivisi, che quindi non sono core, potrebbero anche non esserci, ma forniscono servizi a valore aggiunto a tutte le componenti. Il tutto gestibile attraverso dashboard, o altri canali che vi ho detto, sotto tutto questo si appoggia su cosa? Su hardware, che sotto se commodity. E quando dico commodity, non è per modo di dire, c'è addirittura HP, che ha fatto dei mini server, di capacità computazionale ridicola, con l'obiettivo di scalare all'infinito. Quindi non metto le classiche macchine, con 192 giga di RAM, non so quante CPU storage e così via, metto macchine ridicole. Qua il nostro laboratorio è formato da hardware di recupero, e nonostante tutto funziona bene. Addirittura c'è una distribuzione per CPU ARM, quindi non dico che ci possiamo attaccare al Samsung Galaxy, ma lì lì siamo. E quindi questo è molto interessante, perché le aziende che hanno magari hardware vecchio, possono continuare a utilizzarlo, non devono fare l'ennesimo ricambio generazionale. Ovviamente se uno ha già i macchinoni ipergalatici, utilizzati per l'appare per viso, vanno benissimo. Come dicevo, le numerose componenti sono racchiuse in 5 macro-aree. Quindi compute, per la gestione della risorsa computazionale, networking, per la parte di rete, dallo strato quasi fisico fino a quello completamente logico, la componente storage, i servizi condivisi e la dashboard. Questa è un'altra rappresentazione, più o meno, di come sono fatti, dove ho dato un nome, il nome del modulo, a ogni singola componente. Quindi Nova per la parte compute, Neutron per networking, Cinder, Swift, sì, va bene, ok, e Grants, per la parte storage, e poi abbiamo tutta un'altra serie di servizi, dall'horizon che è la dashboard, a tutte le componenti condivise. Sotto cosa abbiamo? Abbiamo tipicamente una distribuzione Linux, che può essere una classica distribuzione Fedora, SUSE, Red Hat e così via, oppure potrebbe essere una versione ad hoc, che è praticamente come una scatola vuota, che aspetta soltanto di fare da hypervisor, come ad oggi, come sono gli hypervisor di Red Hat Enterprise Virtualization, ad esempio, è sotto l'hardware community di cui vi parlavo. Vediamo rapidamente cosa fanno queste componenti. Come dicevo, Nova è la componente più vecchia, ed è quella che potenzialmente potrebbe girare da sola, perché inattivamente ospitava non solo la parte computazionale, ma anche la parte di storage locale, e di networking locale. Quindi questo modulo da solo potrebbe far girare un'infrastruttura. Ovviamente con tutti i limiti del caso, non avendo altri componenti. Supporta cosa? Come back-end, come hypervisor, tipicamente supporta con il default KDM, quindi quello più diffuso, più storico su Linux, ma in realtà potrebbe supportare varie cose. Il bare metal, attraverso un modulo apposito, quindi voi potete usare un server fisico, come se fosse una macchina virtuale, che questo in alcuni casi specifici è molto importante. Ad esempio quando c'è un software, o ci sono delle componenti hardware che non si possono astradere, e quindi siete costretti a usare quel pezzo di ferro. Altrimenti potete usare Linux container, come Docker, o ancora il classico hypervisor, quindi abbiamo detto che KDM su Linux potrebbe usare Hyper-V e potrebbe usare anche ESXi. Quindi abbiamo una scelta abbastanza importante. La parte neutron, invece, che magari l'avete già sentita nominare come quantum, che era il nome precedente del modulo. La parte neutron fornisce attraverso il protocollo OpenFlow sia il supporto per tutto ciò che è la componente fisica di networking, quindi i Cisco Nexus, le Alcatel Nuage e così via, oppure fornisce direttamente con Open Virtual Switch sia lo strato layer 2 che layer 3, più tutta una serie di funzionalità di più alto livello, quindi il cresollo, balance as a service, file as a service e così via. Cioè voi potenzialmente, semplicemente attaccando le macchine in rete ai classici matrix di sala, potete gestire tutto quanto attraverso neutron. Ovviamente poi servirà a gestire la sicurezza del data center e così via, ma in termini di tenant è autoconsistente, dal layer 2 fino al layer 7. Per quanto riguarda lo storage, ci sono tre macro componenti che ognuna gestisce, e sin da del block storage, quindi i classici device a blocchi, i volumi da montare sulle macchine, per avere uno storage di tipo persistente. Questo è solo una strazione di cosa, o di volumi sotto, o del classico ViceCase, Faber Channel e così via NFS, oppure potrebbe proprio fare da frontend a ciò che sono gli storage a rete più tradizionali. Quindi potreste usare gli MC e gli IBM StoreWides, che ad esempio sono tra i più supportati, e così via. Quindi, diciamo, è il classico device a blocchi. Poi abbiamo l'object storage. Per contenere che cosa? Per contenere file, molto semplicemente, ma potrebbero essere i backup delle macchine virtuali, le immagini, potrebbero essere varie cose. Tutto ciò che in qualche modo è rappresentabile con un file, quindi un dato non strutturato, tipicamente, prendo e lo butto lì sopra. Glance, invece, è il servizio che è condiviso. Qualcuno, infatti, lo mette non tra lo storage, ma lo mette tra i servizi condivisi. Ma è un servizio, in pratica core, condiviso, che fornisce l'accesso alle immagini delle macchine virtuali. Quindi, quando voi dovete far partire una macchina virtuale, quando fate un backup, quando fate una snapshot qualcosa, passa tutto da Glance, che supporta praticamente qualunque formato, dai QKao 2, che è utilizzato, ad esempio, da QVM, ha i classici ISO, VF, VHD, VMDK, quindi, di un formato c'è, è supportato. Poi, ad esempio, VMware offre anche dei driver aggiuntivi per fare eventuali ottimizzazioni sul tipo di file sottostante. Horizon, come vi ho detto, è la dashboard, quindi, praticamente, espone, è un oggetto modulare, quindi, ogni volta che voi installate una componente, questa si aggancia a Horizon ed espone un'interfaccia abbastanza user-friendly. È nata per, in qualche modo, emulare ciò che erano gli Amazon Web Services, quindi la classica console di Amazon. Noterete dopo che, più o meno, tutto OpenStack è nato con un obiettivo, ma in realtà si è evoluto nella direzione di Amazon, quindi offrire un'alternativa open source che si potesse installare anche on-premise di ciò che sono gli Amazon Web Services. Vediamo rapidamente gli oggetti condivisi. Keystone gestisce tutta la parte di Identity Access Management, quindi, può usare come back-end un classico server in un directory e le dApp, potrebbe essere un database, potrebbe essere qualunque cosa, cioè, qualunque sistema IAM può essere agganciato a Keystone per fornire l'autenticazione e gli utenti poi attraverso Keystone possono accedere a Horizon, quindi all'interfaccia o ai servizi sottostanti con le classiche credenziali, con un OpenID o, ad esempio, con un certificato personale, quindi una chiave privata, accedete direttamente. IT è una delle componenti, secondo me, più interessanti assieme al Silometer, che poi vedremo, perché consente di fare l'orchestration e rilasciare, quindi fa il deployment di infrastrutture più o meno complete con un solo click, praticamente. Voi vi preparate il vostro bravo template che dice la mia applicazione tipo ha top server di front-end, ha il load balancer configurato così, ha un firewall, ha n server di back-end, le immagini le deve prendere da qui, la rete è configurata in questo modo, una volta definito il template, lanciate e questo deploia nel vostro tenant tutta l'intera infrastruttura. Perché è interessante? Intanto per il livello di automazione che vi consente di raggiungere, arriva il vostro team di sviluppo, vi chiede di rilasciare un ambiente per fare delle prove XYZ, voi premete un tasto e ve li siete già levati di torno, mentre invece di solito vi fanno vedere i social media e vi viene configurato tutto quanto. Questo è interessante perché assieme a Silometer, che è la componente che fa il monitoraggio delle risorse dell'infrastruttura, voi potreste avere la vostra applicazione con top server di front-end. Viene rilevato un rallentamento, quindi ci sono delle code se un sistema di posta, ci sono del numero di richieste maggiore di quante ne può sopportare. Silometer scatena un evento di qualche tipo, quindi manda attraverso il sistema di messaging interno una notifica al sistema. A quel punto con un semplice script Hit potrebbe prendere e scatenare il rilascio di altri front-end per sopperire a questa esigenza di potenza di fuoco. Poi nulla vi vieta di fare il contrario. Quando avete potenza per 100.000 richieste al secondo e ne avete solo 1.000, restringete a fisarmonica. Quindi potete avere una serie di risorse che vengono prese e rilasciate con molta rapidità. E questo vi consiglio di fare a Silometer. la componente Sara che mi sa che è l'ultima che è stata rilasciata invece serve per riprodurre ciò che è l'elastic ma per il use di Amazon. Quindi immaginate di dover rilasciare dei cluster ad OOP quindi per fare Big Data Processing o chissà che altro. Voi con un semplice click prendete e buttate dentro uno o più cluster ad OOP li utilizzate fate come dovete fare e poi li ritirate via. Questo è molto interessante perché soprattutto per i sistemisti che ancora non sono del tutto pronti ad affrontare questa tematica trovarselo pronto out of the box non è banale. Come dicevo è una componente giovane quindi anche le cose vanno prese col giusto tempo di maturazione. Trov che ha la sua seconda versione invece è il modulo dedicato al database as a service. Quindi immaginate che con IT avete rilasciato la vostra infrastruttura però avete bisogno sempre di database in back end. Con questo rilasciate dei database single tenant per ora che possono essere o MySQL classici o eventualmente MongoDB e KCDB quindi oggetti non relazionali pensati per il NoSQL. Ad oggi la versione attuale supporta anche la replica quindi configura automaticamente la replica sincrona tra due istanze Master e Slave. Con la prossima release dovrebbe esserci anche un Master Master però è molto giovane trovo è nato nel 2014 quindi noi lo stiamo seguendo con molta attenzione perché ci interessa parecchio però non ha raggiunto il livello di maturazione delle altre componenti che invece sono abbastanza robuste ecco diciamo che le altre sono di granito questi sono ancora un po' dei faratini dobbiamo aspettare un attimo che si facciano le ossa questo questo come vi dicevo è per farvi capire se conoscete e usate i servizi Amazon guardate un po' la mappatura in alcuni casi abbiamo una mappatura 1 a 1 quindi Nova riproduce esattamente l'elastic cloud mentre invece in alcuni casi abbiamo una singola componente come Neutron che va a coinvolgere più componenti lato Amazon inutile dirvi che queste lato Amazon esistono da prima e che ce ne sono anche altre non citate qua questo è evidente però Amazon lo fa da tanto tempo e con un investimento di certo tipo questo è un progetto open source quindi dal mio punto di vista mostra un'altra volta che il modello di business basato su l'open source è un modello che non è campato in aria c'è ancora qualcuno che non ci crede ma direi che questa tabella comparativa inizia già a raccontarci qualcosa come vedete poi le tecnologie sono tantissime anche per la parte della telemetria piuttosto che l'orchestration loro hanno realizzato queste cose alcune sono più o meno recenti ma di fatto ci sono quasi tutte una delle cose che non vi ho raccontato è che c'è anche il DNS as a service che però è uno degli ultimi nati quindi anche questo diamo un tempo al tempo vediamo rapidamente per chi mastica architettura tutti i giorni come un'architettura ad esempio abbiamo tipicamente un gruppo in cluster di controller qua ce ne sono due ma alcune installazioni ne prevedono tre sin da subito cosa fanno i controller? diciamo che se il NOVA i compute sono il cuore dell'infrastruttura i controller sono il cervello praticamente espongono oltre alla dashboard espongono i servizi perché ogni modulo è composto da una componente che è API server che esegue le cose e tutta un'altra serie di oggetti tipo il messaging il database e così via quindi dentro il controller c'è tutta l'intelligenza di controllo dentro il compute abbiamo invece effettivamente gli hypervisor che eseguono le virtual machine dentro i componenti network i server network abbiamo cosa? abbiamo tutta la logica di controllo del networking e infine lo storage come vi ho già raccontato che i controller effettivamente includono i servizi di identiti e gestiscono tutto quanto in H.A. e parlano con la rete pubblica perché a voi serve raggiungerli rete pubblica interna rete aziendale perché voi dovete raggiungerli i nodi compute hanno accesso a tutte le reti tranne a quella pubblica perché? perché le virtual machine che devono uscire dal dominio dell'hypervisor passano attraverso i network node che fanno appunto anche da router quindi livello 3 e accedono alla rete gli storage node come vi dicevo possono essere o degli oggetti abbastanza banali che non usano dischi veri e propri a bordo perché fanno da front end da astrazione come uno storage ad esterno oppure possono utilizzare un mix di volumi locali quindi classico l'EVM possono utilizzare un cluster FS per lo storage distribuito SEF che è l'equivalente molto importante ben finanziato dalle dette sulla parte block storage e fa anche object storage tra l'altro quindi c'è anche una legge sulla posizione con cluster e poi abbiamo i network node vi dicevo che gestiscono tutto ciò che è livello 2 livello 3 fino a livello 7 facciamo un attimo un breve ragionamento su alcuni punti particolari che vanno capiti per capire un po' meglio come funziona l'oggetto partiamo dalla multitenancy perché immaginate avere il vostro bravo data center con mille macchine anche vi racconterò di casi che ne hanno anche 12.000 di macchine in esercizio avete mille macchine però li dovete ripartire in qualche modo non è che è tutto a fattore comune a casaccio una delle prime cose che si può fare è creare i tenant o project uso il termine indifferentemente perché prima si chiamavano project quando è uscito Keystone hanno rinominato e diventato tenant però troverete entrambe le terminologie dappertutto un tenant alla fine che cos'è? è un'aggregazione di tutte le risorse di tutta una serie di risorse le vulan volumi stanze le immagini delle virtual machine utenti e chiavi quindi voi create un tenant specifico per il vostro team di sviluppo ad esempio e il team di sviluppo potrà andare a gestire con delle quote molto precise quindi non possono usare più di tot virtual cpu non possono usare più di tot storage più di tot ip perché altrimenti magari si sbragano senza pietà praticamente all'interno di quello sono i patroni possono fare quel che vogliono fanno partire istanze gestiscono la rete fanno quello che vogliono e tutto ciò che faranno è confinato all'interno del tenant quindi intanto non vanno a toccare i tenant degli altri e nessuno gli tocca il loro e soprattutto a meno di configurare poi il layer 3 per l'uscita anche se fanno caos rimangono confinate lì dentro a meno che fanno come Pasquale che poi fa il meter e ci muta giù l'intera rete aziendale però questa è un'altra storia diciamo la racconto un'altra volta lo storage vi ho detto che come back end possiamo usare un sacco di roba ok ma ci sono tre tipologie di storage molto diverse ed è importante capire se e quando usarle l'effimera storage è molto banale è uno storage non persistente voi terminate l'istanza e quel volume sparisce non lo siete persi quindi se dentro ci avete messo dati importanti potete dirgli addio quando è che si usa? si usa ad esempio per il file system del sistema operativo perché le macchine di fatto sono poi tutte uguali partendo da un disco immagine quindi avere una copia persistente di un di un sistema operativo che voi potete replicare in tre secondi e mezzo non serve a nulla diverso invece è il caso del block storage dove voi magari andate a posizionare i dati magari i dati del database e quello magari vi interessa un po' di più non perderlo per strada l'effimera storage adesso che mi viene in mente potrebbe essere utilizzato immaginate i batch per la fatturazione cosa fanno? creano quintali di file li posizionano in un posto specifico e poi li spostano nella destinazione dove deve essere quindi cosa? o i sistemi di stampa o ad esempio il front end di che ne so dell'ACEA per andare a scaricare le bollette quello potrebbe essere usato come effimera storage perché a me non serve che sia persistente una volta che ho finito il mio batch di fatturazione posso prendere e buttare giù tutta l'infrastruttura tutto il tent che non mi serve più il caso dell'object storage è ancora diverso non serve per andare a memorizzare i file intesi come file del sistema operativo o i database ma serve proprio come area di storage alla Dropbox per capirci quindi lì dentro ci butto dentro file dati non strutturati anche in non omogeneo tra loro quindi butto dentro un sacco di roba e non è fatto per la performance ma è fatto per la crescita qua si ragiona in decine di terabyte in realtà qualcuno ha parlato già di petabyte sull'object storage lo usa già in quell'ottica quindi ovviamente è storage meno pregiato tipicamente si fa utilizzando sotto un cluster FS o usando altri sistemi che partono da hardware commodity quindi prendete uno di questi serveracci ci mettete dentro 20 dischi e mettete tutto di queste macchie vi costeranno meno sia come il costo di gestione che come il costo d'acquisto di uno storage array ma effettivamente gli daranno quella capienza brutale di cui magari avete bisogno per contenere della roba ad esempio i servizi di web radio tipo Pandora che altro mi viene in mente Spotify che hanno miliardi di mp3 buttati lì dentro magari a diverse risoluzioni usano gli object storage non li vanno certo a mettere su uno storage array pregiato con dischi ssd magari li vanno a mettere su serveracci ce ne avranno 10.000 buttano lì dentro quello là gestisce automaticamente la replica del dato quindi di fatto anche se storage di basso costo comunque sia il dato replicato quindi intanto poi è accedibile da varie fonti quindi la performance non è del tutto brutta ecco però intanto costa pochissimo il costo per gigabyte e Spotify e Pandora usano BlasterFS sotto un altro discorso è la suddivisione e la logica del cloud perché io vi ho parlato del tenant ma il tenant è una micro organizzazione immaginate di avere i vostri data center prima parlavo qualcuno di 80 data center quanti erano ogni data center potrebbe essere una region una region che cos'è? è un raggruppamento fisico di tutta un'infrastruttura completa che può condividere o meno alcune componenti tipo la parte di autenticazione alla dashboard con altri data center quindi voi potreste avere 80 transenter potreste avere 80 region con una singola interfaccia che è Horizon per gestire tutti 80 e un singolo sistema di autenticazione centralizzato poi centralizzato ovviamente distribuito nel modo giusto ma di fatto uno all'interno poi potreste creare delle availability zone che cosa serve? per raggruppare una serie di sistemi omogeni ad esempio tutti gli hypervisor VMware li metto in una availability zone tutte quelle keyvm le metto lì e all'interno posso creare dei gruppi anche diciamo cross availability zone gli host aggregates che servono servono a dire tutte le macchine che hanno le schede a 10 gigabit tutte le macchine che hanno gli ssd e così via in modo che così in base al tipo di applicazione che devo rilasciare posso andare a decidere abbastanza granularmente dove metterla granularmente e non alla vecchia maniera la voglio su quest'host la voglio su degli host che abbiano queste caratteristiche e questo mi basta perché tanto poi quella lì crescerà farà il suo ciclo di vita e presto o tardi la ammazzerò se vogliamo dire così quindi questo è un po' l'obiettivo uno degli obiettivi di creare queste ripartizioni è legato anche ad altri aspetti ad esempio per motivi di normativa i miei server sui quali girano i servizi per la pubblica amministrazione per la sanità che contengono dati tipo le cartelle cliniche devo girare sul territorio italiano quindi ho la mia region sul territorio italiano ho la mia region ho le mie region su che ne so in Irlanda ce l'ho in Germania ce l'ho negli Stati Uniti dove mi pare però me creo delle regole per far sì che anche il sistema di orchestration quando deve rilasciare nuove macchine per l'ASL numero XYZ prende e le rilascia nella region giusta a quel punto poi potrei decidere anche la valability zone giusta in base a una serie di caratteristiche e così via però ci sono vari ragionamenti che si possono fare un'altra delle regole riguarda principalmente il disaster recovery geografico cioè posso decidere che ho rilasciato due applicazioni magari anche uguali tra loro ma le rilascio su due region diverse così anche se è molto un data center cosa che uno non vorrebbe mai ce n'è un'altra che è ancora up and running adesso è il momento di venire diciamo a quello che è probabilmente più interessante per voi le macroniferenze tra ciò che è OpenStack e ciò che è la virtualizzazione perché vi ho già detto che OpenStack non è virtualizzazione alla vecchia maniera però cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio ragioniamo sul workload a sinistra avete quello classico quello tradizionale server centrico voi fino adesso siete stati abituati a dimensionare i server con estrema attenzione quante CPU quanta RAM quanti dischi in che modo fanno a casa c'è un bilanciatore e così via ad oggi bisogna iniziare a ragionare un po' come dice quest'altro workload app centrico io mi devo preoccupare che l'app quanto sta performando come scala e così via non dove stai su quanti sistemi scala questo perché perché ad esempio il rapporto tra l'applicazione e il virtual machine diventa di tipo una N non è più una 1 cioè se muore quella virtual machine o quel gruppo di virtual machine che sottende quel servizio è un male minore perché io prendo e ne tiro vuoli altre 10 cioè non mi interessa è morto tutto l'hypervisor non devo preoccuparmi di fare live migration o chissà che altro ne tiro su altre 10 e nel giro di 3 secondi ho ritirato su l'interapplicazione non c'è problema infatti tipicamente sono stateless e questo fa scopago il discorso dell'ephemeral storage perché quelle macchine fanno delle attività che poi andranno su un certo tipo di storage ma di per sé la macchina è solo un esecutore non avete perso nulla di importante è solo un esecutore è un po' nell'ottica anche delle formiche non so se avete presente l'intelligenza collettiva delle formiche cioè possono morire anche un numero enorme ma comunque sia non si perde niente in termini di comunità questo è lo stesso concetto infatti uno degli esempi che porta sempre Red Hat ma non solo è quello che io adoro quello degli animali le virtual machine classiche voi le gestite come se fossero degli animali domestici le conoscete tutte perfettamente le avete cresciute le mantenete quando si ammalano quando hanno un problema perdete le ore a fare troubleshooting su queste macchine ci state appresso le curate amorevolmente e tipicamente durano mesi o anni queste macchine qua campano tantissimo invece le macchine con workload accentrico sono tipicamente macchine come gli animali da fattoria adesso a parte che molti fattori conoscono le proprie bestie e gli danno anche un nome non so come facciano di solito hanno 100 capi di bestiame per ogni categoria magari e se ne muore uno non è che vanno a piangere a fargli il funerale prendono e ne mettono altri lo rimpiazzano con un altro ogni brava bestia nell'orecchio nella coda da qualche parte c'è il suo serial number e di fatto quando mi servono altre bestie ne prendo altre quando altre bestie muoiono ne metto altre quindi sono facilmente rimpiazzabili e questo è un po' il concetto che riguarda le applicazioni in ottica cloud dobbiamo superare il fatto che esista un server che la esegue dobbiamo pensare all'app e basta l'applicazione come sta girando e perché se sta scalando bene se sta performando bene poi quanti server sono impiegati è un problema relativo è più un problema magari economico di fatturazione alla fine se vogliamo proprio entrare nel merito ma non è più importante adesso uno dice beh bene bellissimo il discorso degli animali rimane un problema io continuo a fare delle vecchie applicazioni legacy non è che da domani installo open stack e Tana libera a tutti tutte le mie applicazioni sono pronte no ce ne saranno alcune che magari sono già pronte perché il vendor se non l'avete sviluppate voi le ha già predisposte per altre possono essere più o meno adattate altre non riuscirete ad adattarle perché perché magari saranno legate storicamente a un certo hypervisor magari l'applicazione XYZ necessita di GIA su quella versione di SX e con quella determinata quantità di RAM perciò non c'è verso voi non la trasformate in un workload di tipo cloud allora posso pensare di mantenere delle isole che coesistano e avere un workload di tipo ibrido in qualche modo quindi abbiamo open stack e con la sua storia di hypervisor commodity sulle quali faccio girare tutte le applicazioni cloud o magari solo i frontend delle applicazioni e poi sui miei hypervisor classici qua potrei avere REV ad esempio qua è la mia architettura di Sphere lì sopra faccio girare le applicazioni classiche cosa potrei fare? potrei o far gestire tutto da open stack e quindi far sì che una variability zone sono i server SX e quindi continuano a vivere come vi avevano prima oppure ci metto un cmp sopra un cloud management platform come vi dicevo open stack ha delle funzioni ma non ha tutte le funzioni ci posso mettere un oggetto come ad esempio cloud forms direi that e questo qua mi rende questi insiemi di oggetti un private cloud quindi quello che è cloud per davvero quello che non è cloud messo a fattore comune e orchestrato nel modo giusto diventa il mio private cloud a questo punto le possibilità sono infinite perché nessuno mi vieta quando ho la necessità di scalare su un public cloud perché è vero che qua ha dei commodity è vero che scala bellissimo ma se i sistemi li avete finiti li avete finiti cioè se voi avete 100 server fisici e vi serve capacità per 102 prima che vi ricompiate non ce l'avete quella capacità allora potete fare come fece la pizza per Toy Story 2 non so se la conoscete sta storiella girata a parecchio la Pixar quando doveva rilasciare nelle sale il film Toy Story 2 doveva fare era arrivata un po' lunga con la preparazione doveva renderizzarlo e distribuirlo tipo dopo due giorni nelle sale di tutti gli Stati Uniti erano in ritardo con la capacità di fuoco che avevano in quel momento avrebbero ritardato di una settimana cosa impensabile hanno preso macchine su Amazon messi a fattore comune attraverso un CMP e hanno scalato come capacità di fuoco su Public Cloud creando un Hybrid Cloud quindi praticamente sono riusciti ad aumentare esponenzialmente la capacità di fuoco solo per il momento in cui gli serviva finito il rendering hanno distribuito il film spento la componente Amazon e si è ristretto tutto quindi loro non si sono dovuti dimensionare per il picco si dimensionano per la media al momento del picco tiro dentro macchine di Amazon quelle sono istanze come gli animali da fattoria nel momento in cui non mi servono più li macello e ci faccio degli stack quindi qual è la cosa che abbiamo che spero di avervi trasmesso ma sono convinto che abbiate ben chiaro a sto punto che intanto OpenStack non è virtualizzazione assolutamente no OpenStack e VMware ma non solo VMware anche qualcos'altro Microsoft Hyper-V ad esempio possono coesistere possono coesistere in varie forme potreste prendere gli SX prenderli brutalmente agganciarli attraverso il v-center l'API esposto dal v-center a OpenStack oppure potreste creare isole diverse e agganciarle con un CMP o ancora VMware recentemente rilasciato il VIO il VMware integrato ed OpenStack che è un'altra forma ancora che non sostituisce quella dei driver attraverso i API è praticamente una macchina virtuale che gira sopra le SX e diventa back-end per il Nuova Compute quindi di fatto voi avete delle macchine OpenStack che parlano con la piattaforma in un modo diverso cosa succede molto interessante che quando voi rilasciate 30 nuove istanze attraverso OpenStack quelle 30 istanze ve le rivedete ve le potete gestire serenamente o dal v-center come avete fatto sempre oppure direttamente da OpenStack se vi viene più comodo potrebbe anche crearsi una situazione in cui chi fa operation si continua a gestire le infrastrutture nel modo che sa fare poi magari Horizon glielo ho pioppati agli sviluppatori e da lì si smazzano l'intero tenant con le loro istanze che stanno girando su SX questa è un'altra modalità il terzo punto quello dal mio punto di vista più importante è che per sfruttarlo per farlo diventare un'opportunità e non un problema ci sono una serie di cose che dobbiamo fare dobbiamo adeguare le competenze interne perché molte cose cambiano e soprattutto dobbiamo stare attenti ai processi perché l'attuale parcializzazione tipica delle aziende chi gestisce lo storage chi la rete chi la sicurezza chi la parte di virtualizzazione e così via questa parcializzazione inizia a creare dei problemi perché lì quando metti le risorse a fattore comune bisognerebbe iniziare a creare dei team un pochino con competenze anche disomogenee tra loro e farli lavorare tutti ognuno con la sua brava competenza ma farli lavorare integrati quindi non è che per rilasciare un'infrastruttura ci dobbiamo aspettare che venga mandata un'email a chi gestisce lo storage per i volumi una a chi gestisce la rete perché mi deve fare il bilanciatore così così uno dice rilasciami le macchine virtuali fatte così io da sviluppatore potrei dire mando un'email a questa persona e questo mi rilascia tutta l'infrastruttura o meglio ancora qualcuno mi ha dato un tenant e io premo click e mi rilascia l'infrastruttura quindi questo non significa che le persone che avevano competenze specifiche in certi gruppi perdono di importanza ma il loro tempo possono iniziare a impiegarlo su cose un pochino più interessanti anziché passare metà della giornata a fare travel shooting su macchine che non ne vogliono sapere di funzionare su reti che hanno problemi che non separano tra loro chissà che cavolo ma posso iniziare a concentrarsi su cose più interessanti tipo architetture un pochino più robuste sistemi per scalare in maniera diversa cioè posso preoccuparmi di cose più interessanti chi gestisce lo storage non dovrà più ammazzarsi in metà della giornata a rilasciare quei maledetti volumi che servono entro l'ora di pranzo perché se no il mondo smette di girare si staranno preoccupando di gestire l'infrastruttura di farla scalare potrebbero passare metà della giornata ad andare a eventi magari a vedere quali tecnologie possano interagliare a semplificare la propria vita e non andare a fare attività di basso profilo quindi in qualche modo si può pensare anche a un'emancipazione rispetto all'urgente che non lascia spazio all'importante altro tema importante è l'adeguavimento delle applicazioni perché come vi dicevo sta roba non casca dal cielo openstack può diventare la vostra migliore opportunità di semplificarvi la vita dell'esercizio tipico oppure può diventare il vostro peggior nemico dipende da quello che dovete fare se voi cerchete di prendere la formina quella con il quadrato e la volete infilare a forza nel triangolo magari ci riuscite a martellare ma ve la dovete vedere veramente con il signore a riuscirci quindi non è utile le applicazioni devono essere di un workload di tipo web di tipo cloud anzi meglio ancora quelle tradizionali possono coesistere ma non possono essere portate a esiste perché come vi dicevo la CA ad esempio non viene così cioè voi siete abituati al restart automatico a fronte del failover di un hypervisor siete abituati alla live immigration a fronte di un bilanciamento delle risorse sta roba non c'è perché non mi serve migrare una macchina se la macchina ha un problema la tiro giù ne tiro giù ne tiro su altre due questo è il concetto quindi è importante spostare le competenze anche sullo sviluppo delle applicazioni ipotizziamo che domani decidiate di provarlo ok uscite da qui dite a Michelangelo mi ha convinto bravissimo fighissimo lo voglio provare cosa dovreste fare intanto scegliere una tra le svariate distribuzioni tra quella open source e le svariate distribuzioni commerciali perché ognuna è fatta per delle esigenze molto specifiche quindi non potete scegliere una a caso dovete valutare dovete creare un team un team dedicato che non stia soccombendo alle attività di esercizio normali e soprattutto non debba sottostare alle classiche regole di parcellizzazione perché se no diventate mati se volete fare delle cose nuove con i metodi vecchi durissima potete guidare la macchina ma se volete farne ancora con le redini come facevate con i carri è dura 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 il passo successivo è identificare una o più applicazioni che possono essere papabili per essere portate ad esempio il sito web potrebbe essere uno pensiamo all'automatica ok visto che siete qua tutti i front end di un certo gioco ok che sono quelli che subiscono magari maggiormente gli sbalzi ne so il sistema delle scommesse durante i mondiali sono quelli che crescono di più a fisarmonica quella potrebbe essere un'applicazione interessante prendo e la adatto e la sposto in toto o in parte su quest'isola nuova di OpenStack e imparo cosa? imparo innanzitutto quali sono le nuove regole che devo dare ai sviluppatori le nuove linee guida per adattare le applicazioni o scrivere le nuove applicazioni poi posso capire effettivamente quali sono i miei limiti come team come bilanciare le migliori risorse magari non mi servono dieci che ne sanno di virtualizzazione ma me ne servono due 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 in base alle competenze e altra cosa che potrebbe essere interessante è andare a capire come far crescere questa cosa qua quindi da che un'isola piccola ci mette qualcosa pian piano cresce quindi avremmo una virtualizzazione che occupa tanto così e l'OpenStack così pian piano una decresce e l'altra cresce infine l'idea è quella di avviare un pilot cioè bisogna apprendere e provarlo sbatterci l'uso perché vi parlo di pilot e non di POC perché la POC di solito prevede il test la dimostrazione di una o più funzionalità molto specifiche in un ambito molto specifico qua datemi un po' di fiducia fate un salto della fede sta roba funziona ma vi farà vedere i sorci verdi bisogna avviare un pilota per imparare a sfruttarla al meglio è un cambio generazionale importante questo qua quindi preso nei modi giusti nei tempi nei modi giusti potrà a regime portare i suoi vantaggi vediamo chi l'ha chi c'è già passato un nome che conoscete Paypal Paypal ha recentemente finito la migrazione da VMware OpenStack il termine migrazione è un po' fuorviante perché sembrerebbe quasi che uno ha sostituito l'altro diciamo che non è esattamente così vediamo un po' i numeri del progetto negli ultimi tre anni ha iniziato a lavorare con una versione abbastanza vecchiotta di OpenStack negli ultimi tre anni hanno migrato praticamente tutto quanto mantenendo un workload una ripartizione del workload 65-35 quindi abbiamo la maggior parte che è stato riadattato per girare tutto su KVM e quindi sfruttare OpenStack al 100% il 35% magari hanno applicazioni legacy e ancora gira su Hypervisor SX quindi non hanno buttato via tutto l'investimento fatto ma l'hanno in qualche modo messo a fattore comune pian piano otterranno sempre più benefici a me la cosa che ha colpito è il numero sono 4100 server fisici e in realtà sono pochini perché tutto il gruppo eBay e Paypal ha 12.000 server distribuiti nel mondo 12.000 e li gestisce tutti da lì da OpenStack ovviamente hanno fatto un lavoro di integrazione importante tra script robe custom e così via ci hanno buttato molto sangue ma adesso guardate questo numeretto qua 6-9 anche recentemente abbiamo fatto il MySQL Tech Tour e parlavamo di come raggiungere i famosi 5-9 che equivalgono a 5 minuti e 20 secondi di disservizio in tutto l'anno voi ve ne immaginate 6-9 che cosa vuol dire che voi avete fatto uno sternuto e avete fine non potete più fare disservizi in tutto l'anno e loro lo fanno attraverso OpenStack quindi nonostante sia open source nonostante sia magari sperimentare e ci abbiano dovuto lavorare sopra è roba che funziona questa ditemi se avete mai avuto disservizi con Paypal io non ne ricordo mai uno nella mia vita quindi ad oggi VMware è ancora utilizzato gli hypervisor e SX sono ancora utilizzati coordinati dal vCenter che espone le API per agganciarsi a Nova quindi voi da OpenStack gestite tutto quanto indistintamente avete la vostra brava applicazione Legacy avete Exchange Server che sta virtualizzato avete i back-end Exchange che sono virtualizzati sopra VMware e Microsoft non ve lo supporta se non è quella versione di VMware o di HyperV quella roba sta sulla availability zone che è basata su VMware tutta la roba nuova quella che scala bene è tutta su KVM che tra l'altro è a costo zero e adesso non vorrei buttarla sul soldo non vorrei far portafogli ma qua sono soldi veri cioè loro hanno spostato i soldi l'investimento non è più sulle licenze ma sulle competenze questo è un mantra ormai atappico dell'open source investire sulle competenze e non sulle licenze o sul ferro questo è ancora più vero con questa roba qua perché è un passaggio importante qual è stato l'obiettivo loro? cosa dicono? che quello in cui ci hanno guadagnato maggiormente è l'agilità è la possibilità di scalare perché anche loro come tutti hanno i loro periodi hanno quella per l'onda sinusoidale col picco nei periodi che ne so degli acquisti natale oppure c'è il periodo delle vacanze dove tutti comprano attraverso le agenzie di viaggio online loro hanno i loro bravi picchi e non riuscivano in alcun modo a dimensionarsi mai nel modo giusto avevi 3000 server ok ne metto 3002 non bastano più ne metto 3000 era una follia continua e loro hanno risolto così ebay è arrivata al 100% di KVM ha abbandonato completamente VMware il mio messaggio non è abbandonate VMware ma volendo se le applicazioni lo permettono e se le competenze acquisite ve lo consentono potreste anche decidere di lasciare il cuore oltre l'ostacolo è un'opportunità non è un obbligo però uno il pensiero inizia anche a mettersi no? dal torno di un tempo eravamo tanto legati ai sistemi hardware inizialmente c'è stata resistenza psicologica alla virtualizzazione c'è chi l'ha abbracciata con grande entusiasmo e chi invece in qualche modo non l'ha sopportato questo è un altro cambio generazionale pian piano dobbiamo pensare di spostarci non è adatto a tutti ma a chi ha carichi di lavoro importanti e ha tanto ferro tanta capacità computazionale vorrei concludere raccontando di quello che andiamo a fare noi dico andiamo perché non siamo onniscienti e non l'abbiamo inventato noi quindi stiamo acquisendo tutte le competenze e il background ci consente di fare alcuni alcuni balzi in avanti in altri casi insomma li vedremo volta per volta il nostro obiettivo è supportare voi ma i nostri clienti che hanno quelle giuste esigenze lo che stai quindi non tutta la customer base in più o meno tutte le fasi del processo di adozione quindi partire con la consulenza pre adozione anche i ragionamenti che stavamo facendo prima può far parte di questo tipo di lavoro aiutare a realizzare la prima infrastruttura lo che stai quindi la prima infrastruttura del progetto pilota è iniziare a ragionare su come questa debba crescere nel corso del tempo per region availability zone integrazione con quello che avete già in casa e così via poi il supporto alla migrazione dei servizi quindi ricordate quella cosa identifichiamo uno più applicazioni e ragioniamo su come fare chiamiamola erroneamente porting ma è per rendere un po' l'idea quindi come renderla cloud enabled ok e poi una delle cose sulle quali giochiamo in casa è la parte di sistema integration vera e propria quindi l'integrazione con i sistemi e i servizi che già avete nel caso vostro magari no potrebbe essere più adatto al caso di telecom la fatturazione piuttosto che altri sistemi la gestione dei giochi dalle piattaforme di gioco quant'altro quindi integrarle per fargli sfruttare tutte le nuove funzionalità infine creare nuove cose quindi ingegnerizzare nuovi servizi che magari fino adesso non avete realizzato o non li avete realizzati nel modo in cui volevate perché la tecnologia ancora non vi aiutava in questo potremmo effettivamente darvi una mano a fare un balzo in avanti con alcuni nostri clienti abbiamo già avviato dei processi di db as a service dei progetti di db as a service basare che pian piano il progetto si è avuto nel corso del tempo si è iniziato con delle singole istanze gestite con dei finti container all'interno di una piattaforma virtualizzata si è passati a dire ok usiamo i container le istanze all'interno dei container dentro le macchine virtuali il passo successivo sarà ok aggiungiamo lo strato di db as a service dove il rapporto tra istanza e virtual machine è uno a uno ma si presta ad altri utilizzi quindi pian piano ingegnerizzare nuovi servizi e infine una cosa per cui la beauty di Roma è nata il supporto all'operation quindi il classico supporto al mantenimento dell'infrastruttura al mantenimento quindi correzione evolutiva manutenzione scurale manutenzione correttiva manutenzione evolutiva e così via ok noi come sapete siamo Red Hat Premier Business Partner ora col gol partner e siamo anche partner di Rackspace noi ad oggi supportiamo tra le svariate distribuzioni che ci sono ognuna con i suoi pro e i suoi contro supportiamo queste quattro la prima RDO è appunto la versione OpenStack quella comunitaria aggiornata all'ultima release gestita dalla comunità di Red Hat quella che abbiamo visto oggi è aggiornata all'ultima release quello è il vantaggio lo svantaggio è che non è adatta agli ambienti di produzione tipicamente quella in questo momento sta girando su Red Hat o su Ubuntu per rendire a capire su Fedora che era l'obwerp che si scarica su Fedora classico c'è l'obwerp proprio di l'NDO di OpenStack e no questa è la tramite l'impact stack che era ok altrimenti se volete trascegliere tra delle distribuzioni commerciali che vi danno vi garantiscono la certificazione del codice il supporto e la tutte le garanzie legali di cui l'azienda potrebbe avere bisogno c'è il discorso della Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform che è quella che personalmente noi preferiamo per tipologia di pacchettizzazione che ha e poi vediamo una tabella comparativa veloce c'è la versione di Oracle sia per Oracle Linux che per Solaris lo fanno per continuità probabilmente non la sceglierà nessuno ma questa è un'altra storia infine c'è la versione di Rackspace che però sapete Rackspace è tra gli inventori di OpenStack però Rackspace ha fatto una cosa un po' diversa dagli altri la sua distribuzione non nasce per un uso stand alone on premise dal cliente ma nasce come estensione del loro servizio di public cloud questo cosa significa? significa che comunque sia sono loro in qualche modo ad essere ancora padroni della loro estensione quindi anche il tipo di supporto previsto è un po' particolare quindi questo dà delle opportunità in termini di supporto direttamente del vendor dall'altra parte impone qualche limitazione quindi va valutata caso per caso in questa tabella ho messo alcune proprio le cose più essenziali tipo gli hypervisor supportati quella reddit supporta nativamente SX mentre invece che ne so quella Oracle non ve la supporta quindi quando vi dicevo quando vi dicevo una delle cose essenziali è il scegliere la distribuzione non era un caso anche Rackspace bellissima ma magari se volete agganciarci gli SX non ve la supportano l'altra caratteristica è il guest OS supportati qua per esempio Trame supportano Windows Server 2012 Linux no scusa Oracle sono Linux licenza cosa vuol dire? licenza perché quella open source è una licenza appunto open source Apache 2.0 queste sono sotto licenza commerciale quindi si deve pagare una subscription per l'uso dell'open stack per l'uso della distribuzione della loro distribuzione di open stack che include il supporto e tutta la serie di servizi questo va anche per ora come l'experte come vedo sì sì assolutamente ma voi già usate già le date ad esempio quindi già siete familiari con il tema della sottoscrizione sono tutte e tre sottoscrizioni se io volessi fare un pilot con l'RDO non la posso fare su un SXI no quindi mi devo scaricare con forza la trial diciamo che si potrebbe se non sbaglio si possono scaricare poi i driver open source per SXI però il problema è qual è l'obiettivo della pilot l'esperienza mi insegna che le cose provvisorie in azienda sono quelle che poi diventano consolidate perciò se il rischio è che la pilot diventi il core di un'infrastruttura più grande vi conviene fare tutto quanto già con la versione che uno pensa di usare cioè il rischio è che voi facciate la pilot su RDO che ha dei vantaggi e degli svantaggi poi in produzione invece volete andare su Red Hat e lì vi scontrate con delle cose che non avevate scoperto una cosa lo vedete questo luogo qua open stack powered tutte quante si basano su open stack ma questo logo ce la sono redette questo significa che loro hanno richiesto e passato l'intera certificazione comunitaria sulla compatibilità delle API delle componenti in soldoni che vuol dire che tutto ciò che è certificato per open stack è modulare compatibile con quella versione ad esempio utilizzate Amazon utilizzate l'interfaccia del Cisco Nexus certificata per open stack siete sicuri che funziona e se c'è qualcosa che non va si apre il ticket in assenza di quella certificazione loro alzano le mani e dicono ma io non ho garantito la compatibilità non è un dettaglio altra cosa notate la release di riferimento le release commerciali tipicamente sono indietro di un semestre almeno rispetto alla versione all'upstream in pratica per semplice motivo perché loro certificano il codice quello che rilasciano è appunto supportato e certificato quello che noi abbiamo riscontrato oggi con l'LBS service dove non riuscivamo ad associare il monitor da Horizon l'ha dovuto fare da linea di comando teoricamente non sarebbe successo con una versione certificata quindi il vantaggio di affidarsi alla versione comunitaria è che hai le ultime feature anche quelle più ballonzolanti lo svantaggio è che sono ballonzolante d'altronde se vuoi provare i prototipi la cosa figa che provi i prototipi però il prototipo può anche scoppiare il missile infatti qua vi ho scritto ideale per cosa secondo me le radio per progetti pilota minori cioè quelli che poi non diventano di produzione perché se poi come dappertutto il temporaneo diventa definitivo questa io ve lo dico ve lo installate a casa vostra e non in un ufficio perché poi rischiate che vi fanno vedere i soci verdi e non ci riuscite a tornare indietro considerato il loro uso massiccio di VMware ragionerei in un'ottica molto precisa per voi utilizzare i hypervisor SX sia imprescindibile intuitivamente mi viene in mente questa cosa come è nello? io ripetisco una cosa non ce l'ho con VMware lo giuro però in questo momento come transizione può aver senso integrarle e pian piano spostare il workload ma l'obiettivo dovrebbe essere quello che si è posta e ha raggiunto Paypal progressivamente scaricare i server SX e migrare verso Verstair e mantenere su SX soltanto ciò che lo richiede che trae vantaggi cioè l'obiettivo è utilizzare le cose nel posto giusto le applicazioni che traggono vantaggio da Strasso SX è bene che stiano lì quelle che possono trare vantaggio dello Strasso Over Stack lo devono usare perché poi quel vantaggio può essere in natura economica come diciamo tutti i detti può essere di natura tecnologica ma io ma io ripenso sempre all'operation a me pensare che magari un tecnico di rete o dello storage iper schillato sta lì a diventare scemo sui volumi che deve fabbricare anziché ragionare su cose molto più importanti per l'azienda secondo me è tempo sprecato e qua ritorna il famoso mantra dell'open source investiamo sulle competenze e almeno sulle licenze e tanto non si sfugge quello vi porta all'emancipazione più di un nostro cliente storico con questo mantra si è pian piano emancipato e ha iniziato a usare di meno anche noi che potrebbe essere un problema ma in realtà adesso non ci usa per l'operatività spicciola ci usa sulle cose difficili quindi in qualche modo dà dignità a noi e dà dignità a loro che non sono in baria di un vendor o di un sistema integrator e non sanno fare le cose più banali sulla prima infrastruttura e so cose ovvie e banali ma è giusto ripetere perché poi le cose a forza di ripetere diventano la normalità ecco io ho finito un'azienda per l'anima che ho finito Grazie.